Ecco le 480 firme per dire no alla trasformazione di Piazza Rinaldi, ad averle raccolte la Lega che le ha presentate all'indomani dell'annuncio di inizio lavori per dopo Pasqua. Si chiede di non rifare Piazza Rinaldi con un costo così astronomico, 583 mila euro, perché la piazza già così com'è va più che bene. Una piazza chiusa inutilizzata, secondo la Lega, che propone di riaprirla anche al parcheggio delle auto che attualmente occupano spazi ben più angusti, come via Campana e piazzetta del film. Una perdita di entrate notevole in questi anni in cui è stata chiusa, in questo periodo? Sì, sono due anni di perdite di entrate, di gedito, ma soprattutto una prospettiva di spendere dei soldi su una piazza che i televisioni non sentono come tale, non è mai stata piazza, infatti se uno va a vederla i passaggi pedonali in pietra e il resto sono in sassi perché non è mai stata una piazza e l'amministrazione vuole costringere i trevigiani ad andare su un luogo che non gli appartiene. Piazza Rinaldi è proprio l'emblema del fallimento di questa pedonalizzazione. Credo che l'amministrazione si sia infilata in un cul de sac dove non riesce più ad uscirne. Ci sono due pessimi esempi che sono Piazza Rinaldi e Piazza Santa Maria di Battuti. La raccolta firme continua, ci tengo anche a precisare che è una raccolta firme trasversale, non basata su motivi politici ma su motivi legati al buonsenso e al rispetto del denaro pubblico.